sui redditi e l'Irap. Gli italiani e i contanti, un rapporto che rimane forte nell'era dei pagamenti digitali. Anche in vacanza, molti preferiscono usare ancora le banconote. Giovanna Savini. Preferisco avere i contanti. Diciamo che le piccole spese le paghiamo con i contanti. Gli italiani preferiscono le banconote. Secondo una stima di un'impresa, ogni giorno al Bancomat viene prelevato un miliardo di euro. Più dello scorso anno, se nel 2022 la somma ritirata si aggirava intorno ai 350 miliardi di euro, nel 2023 è stata raggiunta quota 360 miliardi, 10 in più, pari al 2%. Contanti o carta? Contanti. Soprattutto persone di una certa età, c'è l'abitudine di avere contante. Non stupisce quindi che nell'area euro l'Italia sia fanalino di coda per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro liquido. Con appena 200 operazioni medie a testa, con carte, bonifici e assegni. In Francia le operazioni pro capite sono più del doppio. Primo in classifica in Lussemburgo, con una media di 8.738 transizioni digitali l'anno. Ancora ci dobbiamo abituare a questo metodo di pagamento, però penso che con gli anni andremo verso la direzione tutto col Bancomat. Un divario che potrebbe essere gradualmente colmato, considerando che i pagamenti digitali sono comodi, sicuri, tracciabili e riducono i rischi di furto e smarrimento di denaro.